Ben ritrovati amici e amici, come è stato? Un saluto a tutti, una buona serata, buon pomeriggio, buona mattinata se vedete questo video domani da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube. Sono giornate molto calde, finalmente anche a livello di clima, anche se domani mi pare torni il brutto tempo, ma soprattutto a livello di notizie. Notizie, trattative, uscite, entrate, rinnovi e non solo una settimana molto importante. Vi ricordo, prima di iniziare, di commentare numerosi con il vostro punto di vista, di lasciare un bel like qui sotto e soprattutto, se non avete ancora fatto male, di iscrivervi qui in questa zona. Se amate almeno uno tra Rivera, Van Basten, Baresi, Sheva Kakà e Inzaghi. No, diciamo almeno uno, almeno tre, dai, almeno tre. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella. Siamo quasi 91.000 iscritti, puntiamo verso i 100.000, mi raccomando. E rimanete sintonizzati fino alla fine e poi capirete perché. Allora, iniziamo subito con ricordare che domenica si gioca con la Juventus, perché sta succedendo di tutto extracampo, ma domenica c'è una gara importante con la Juve. E se noi la vinciamo, ragionando insieme a voce alta, noi siamo a quel punto aritmeticamente in Champions League. Sì, direi di sì. Ci servono tre punti, quindi se vinciamo con la Juve fatta potremmo già festeggiare la Champions domenica, sperando però di vincerla, di guadagnarla sul campo. Mia speranza, non di tutti, ma è il mio punto di vista, il mio sentimento. Allora, c'è stato un via-vai importante a casa Milan, e adesso vi raccontiamo tutti. Partiamo subito però con una questione in uscita che, incrociando le dite, incrociamole tutte, inizia a essere piuttosto calda. Vi dicevo negli scorsi giorni, la mia speranza è che su certi giocatori non prevalga l'orgoglio della squadra a mercato, ma la necessità di tagliare chi non è da Milan. Milan. Il riferimento in questo caso è Orighi. C'è chi ha fatto peggio che Rebic, per quanto mi riguarda, anche per atteggiamento. Però il discorso Orighi, da un lato se lo confermi hai il secondo anno e sfrutti il decreto crescita, se non lo confermi non hai il secondo anno e quindi non puoi soffrire del decreto crescita, quest'anno è come se l'avessi pagato 9 milioni di euro l'ingaggio. Però abbiamo visto che con Milan, in generale, forse con la voglia di giocare, con l'atteggiamento, si è visto davvero molto poco, nonostante, insomma, le aspettative fossero diverse. Da parte non di tutti, perché qualcuno era scettico su questa possibile operazione. Ebbene, poi tra poco parliamo ancora di Minkovic-Savic. Pare, pare che il giocatore abbia davvero mercato. Stia avendo mercato in Inghilterra, dove c'è un club su tutti i West Ham, ma nelle ultime ore la Turchia con il Fenerbahce sembra essere il club che si sta muovendo più concretamente nei confronti del belga 28enne del Milan. E questo, per me, sarebbe un inizio mercato straordinario, perché se il Fenerbahce lo prende non è in prestito, lo paga, significherebbe fare plusvalenza, qualsiasi prezzo è una plusvalenza netta, al Milan vorrebbe almeno una decina di milioni di euro, per un giocatore che comunque hai preso a zero ma non vale zero, anche se ha reso zero, e ti permetterebbe di avere ancora più possibilità di spesa e di manovra sul mercato, in attacco ma non solo. Quindi il fatto che se ne parli nelle ultime ore così insistentemente, quando siamo a fine maggio, mi fa sperare e pensare che possa essere una soluzione che non si trascina verso fine agosto, ma che il Milan vuole risolvere in tempi brevi. E prima lo fai e meglio è. Quindi incrociamo l'Italia sperando che davvero il Fenerbahce possa essere la pista, oppure il West Ham, i due club più interessati. Dopodiché, nelle ultime ore, grande via vai a casa Milan, dove tra dopo domani e venerdì ci sarà anche Raffa Leao per la firma sul contratto, si stanno sistemando le ultime cose social, i video, la presentazione a livello mediatico di contenuti multimediali, come sempre succede, soprattutto di fronte a un rinnovo così importante, che forse è la notizia migliore dell'estate, ecco. Non dell'estate, scusate, magari anche, spero di no, magari c'è qualcosa di meglio, la notizia migliore della stagione. Dopodiché, vi dicevo, prima ieri è arrivato Enzo Raiola, Enzo Raiola a casa Milan, e ho fatto una riflessione, per chi è andato a Enzo Raiola? E' chiaro che ci sono anche le visite, ce ne sono tante, di cortesia, di buoni rapporti, però se vai, tendenzialmente di qualcosa parli. Non credo ben a Ser, che dopo questo infortunio, sicuramente comunque in estate non avrà mercato. Ecco, sto andando a farmi una carrellata sulla scuderia Team Raiola, per vedere i nomi. Donna Rumma, no, tra l'altro Donna Rumma ha fatto un'altra papera domenica, incredibile, con la palla che l'è passata sotto, al braccio. Ben a Ser, abbiamo detto. Poi ci sono i nomi di Gravenberg, Romagnoli, Van de Ven, Pinamonti, Brobry, Kluivert, Stanks, Windal, Becker, Pellegrini, Boadu, Rosario. Insomma, al momento non abbiamo ulteriori elementi in mano. Io credo, credo, ragionando insieme a voce alta, che sul piatto, stiamo cercando di avere conferme dirette, sul piatto ci fosse il tema, l'argomento, Zlatan Ibrahimovic, il futuro di Ibrahimovic, che per il Milan non è ancora sul campo, non è più sul campo. È a Milanello, ma non più sul campo. Ora aspetterà Ibra decidere il suo futuro. Se vuole continuare a giocare c'è la pista Monza, se vuole restare nel mondo Milan c'è la pista, diciamo così, dirigenza a metà tra casa Milan e Milanello, più vicina a Milanello che a casa Milan. Non credo che sia parlato di altri profili, vediamo se c'è qualche altro giovane interessante. Siamo a Cindel Monza. Sì, poi c'è Alesi che è già del Milan, il 19enne, insomma, avranno fatto il punto probabilmente su Zlatan Ibrahimovic. Ma non è stato l'unico incontro, perché, notizie di CM, ci sono stati anche gli agenti di un giocatore del quale qui abbiamo già parlato un paio di settimane fa, che di Mestiere fa la punta e sta facendo una stagione al primo anno in Europa in termini realizzativi. L'attaccante deve fare gol, quello deve fare straordinaria. Il giocatore in questione, rappresentato ieri dai suoi agenti in sede al Milan, è Santiago Gimenez. 22 anni appena fatti, un mese fa, nato in Argentina a Buenos Aires, ma messicano, alto 1,82, punta centrale del Feyenoord, con cui ho incontrato in Scanezzi nel 2026 proprio perché è appena arrivato. Transformartelo valuta 9 milioni, cifra magari un po' bassa, visto che lo explora stagionale. Ebbene, parliamo di un giocatore interessante, rapido, con un grande senso del gol, freddezza sottoporta, forte tecnicamente, che al primo anno in Europa nel Feyenoord sta facendo una stagione straordinaria. Pensate che ha realizzato quest'anno 15 gol in ere divise, con 3 assist in 31 partite, e voi direte, però vanno pesati i gol, vero, al primo anno però in ere divise fare 15 reti non è facile, ma poi ha fatto 5 gol in 9 partite di Europa League, quindi qui arriviamo a un livello superiore rispetto alle divise. È di fronte a un exploit incredibile, sorprende come al primo anno poteva magari avere difficoltà e invece arrivando ad un altro mondo calcistico-culturale ha avuto un impatto straordinario. Avrebbe caratteristiche diverse rispetto a Giroud e magari potrebbe essere compatibile con il prestito di Scamacca. A quel punto nei tre, lui tra l'altro ha fatto qualche volta anche dalla destra, una punta più di movimento nei tre e sarebbe un attacco, secondo me, brillante. Ricordiamo che sul giocatore ha una media di un gol ogni 105 minuti, quindi un gol ogni partita. Straordinaria, davvero. Sul giocatore, in questione, c'è anche un interessamento dell'Atletico Madrid, che è anche su Reteghi, e della Lazio. Vediamo, insomma, cosa succede. È chiaro che se va via Orighi e va via anche Rebic, là davanti devi fare un giocatore che può fare anche l'esterno a sinistra, ma balla magari tra esterno e punta e poi due punte. Quindi due balla tre operazioni davanti ne facciamo. Se si fa Scamacca più questo giocatore, a me intriga perché è quello che potrebbe esplodere che quest'anno è già esploso, ma devi darlo al Minan, Scamacca al trego di Giroud, direi che potremmo essere, credo, soddisfatti. Con la conferma di Leao e qualcosa di importante sulla destra. E poi magari un gran colpo a centrocampo. A questo proposito, nel video precedente, a Ismenet piace anche la Lazio, adesso parliamo anche di Lazio. Nel video precedente raccontavamo quello che veniva scritto oggi della Gazzetta su Sergei Milinkovic, i precedenti abboccamenti con il suo agente raccontati dalla stampa inglese un mesetto fa con il suo agente Kezman da parte di Madini di Massara, la stampa romana vicino alla Lazio, messaggero che scrive in Minan, si scrive la corsa per Milinkovic-Savic, ma c'era la Juve, ora la Juve non c'è più, per i notti motivi. Ecco, da dove nasce la passione di Pioli per Sergei Milinkovic-Savic? Nasce da una cosa che io erroneamente oggi ignoravo, dal fatto che lo ha allenato lui, lo ha allenato lui diversi anni fa alla Lazio e da lì nasce la passione per questo giocatore che nel frattempo è cresciuto a livello di esperienza, oltre che di età, però a 28 anni non è a 32, è cresciuto a livello di prestazioni e porta sempre gol e assist. Questo è un ulteriore dettaglio rispetto a una trattativa che potrebbe essere la grande operazione estiva, però, ripeto, bisogna passare attraverso delle eccessioni. Su Origi sono contento, mi sfrego le mani se va via, perché al Milan ha dimostrato di non saperci stare, perché la maglia del Milan, ragazzi, va meritata. Questo è un dettaglio da non trascurare. perché se va via poi hai margine di spesa e... però... però c'è qua... Milinkovic-Savic lo metti sulla tre quarti, siamo d'accordo, no? Oggi hai Adli, hai Diaz e Dichetelare. Di questi tre, se prendi Milinkovic-Savic ne puoi confermare soltanto uno. Ora, si parlerà con il Real Madrid di Brahim Diaz, Dichetelare si era parlato di Leeds, mi sembra che sia un po' raffreddata questa pista. Dall'altra parte, Adli probabilmente va via. Ecco, la speranza, non me ne vogliono gli stimatori di Dichetelare, è che si riesca a cedere Dichetelare. Che per Dichetelare possa arrivare il Leeds di turno, piuttosto che un altro club, non ricordo la classifica però della Premier, e porti quei 28 milioni che è il prezzo a bilancio di Dichetelare. Voi direte, sono pazzi. E beh, lì spendono anche tanto e buttano tanti soldi. Voglio però vedere un particolare perché il Leeds non viaggiava in buone acque, ecco. Vediamo subito perché se tu prendi 28 prezzo a bilancio per Dichetelare, l'Operazione Milinkovic-Savic ce l'ha poi altro che fare. ecco, il Leeds è penultimo, il Leeds è penultimo e ha due punti meno dell'Everton. Manca una giornata e il Leeds probabilmente va giù. Quindi il Leeds è da escludere è difficile trovare un estimatore per questo giocatore a quella cifra, quindi a meno che riesci a cederlo in prestito però non incassi i soldi, ecco. Situazione complicata. Vediamo che cosa succede. Nel frattempo quello che mi fa molto piacere, lo ribadisco, è che siamo a fine maggio ma siamo molto attivi con la volontà di fare le cose prima e non dopo, di prendersi il meglio prima e di non prendere magari quello che resta dopo per partire forti subito già con la preparazione, cosa che un anno fa, come sapete, non è riuscita per diversi motivi. Dittemi che cosa ne pensate di tutto, se conoscete Jimenez del Feyenoord, io l'ho un po' studiato, sembra interessante, soprattutto fa tanti gol, su Ibra io direi che non si pone neanche, cioè, con tutto la riconoscenza bisogna, secondo me, chiudere con il discorso Ibra calciatore, averlo lì vicino a Milanello ma da dirigente e per il resto su Milinkovic una spia oggi la gazzetta, ripeto, me l'ha accesa. Ho ignorato un po' i segnali precedenti ma adesso una speranziella la nutro seppur sia difficile ma sarebbe un colpo pazzesco. Ci farebbe svoltare in una maniera incredibile. Sarebbe perfetto per il Milan e Pioli lo sa bene, lo ha pure allenato. Commentate, iscrivetevi qui numerosissimi, siete dei Corri Rossoneri benvenuti. Arriviamo oggi stesso a 91.000 iscritti. Benvenuti, ora vi rimando al video precedente. Ciao! Benvenuti,